Un mese di maggio all'insegna della musica a Villa Carlotta, l'associazione Agimus, sezione Lombardia, ha organizzato il tradizionale appuntamento dei tramonti in musica nella cornice della villa situata a Tremezzo sul lago di Como. I concerti si svolgeranno tutti i venerdì di maggio alle ore 17. Primo appuntamento il 4 con il duo Granato, Cristian Battaglioli al Sassofono e Marco Rinaudo al Pianoforte. Si prosegue venerdì 11 con il trio Zadig, composto da Boris Borgolotto al violino, Mark Garcia al violoncello e Jan Barber al pianoforte. E venerdì 18 maggio con il duo Urba, formato da Marius Urba al violoncello e Vita Khan al pianoforte. La rassegna si chiude il 25 maggio con l'esibizione del soprano Ayako Nishiyuki, accompagnata al pianoforte da Egno Cominetti. Il costo dei biglietti d'ingresso è di 15 euro, comprensivi della visita a Villa Carlotta e ai giardini a partire dalle 13.30.